Ok, adesso non mi vedo, è molto meglio. Allora, ciao ragazzi, benvenuti a una mia nuova puntata dei Time Lapse sulla pittura. Questo è collegato all'altro quadro che ho fatto quadrato. Questo quadro sarà il fratello di quest'altro quadro. Questi due quadri viaggeranno insieme e se questo può essere considerato l'odio, questo potrà essere considerato una sorta di amore, di felicità. Oggi ho già fatto una prima fase del disegno, potete vedere che ho già videoproiettato la saga, ma non so se si può apprezzare l'alba. Oggi ne andremo un po' di bomboletta. Useremo questa bomboletta che è un ammologo, ci dà questo bel nero, che è un nero marrone, e sfumare con la trielina perché verranno queste tonalità quasi brozzate. Detto questo iniziamo quasi subito la lavorazione. Allora, ciao! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.